Eccoci ancora qua! Allora, signore e signori, prima di fare una piccola pausa, vorremmo fare con voi un esperimento. È la prima volta che lo tentiamo. Tenteremo una cosa che non è mai stata fatta, una danza di luce fatta con i vostri telefonini per celebrare la bellezza, l'arte e la danza e poi goderci tutti insieme lo spettacolo. Proviamoci. Questo numero lo chiameremo Illuminiamo la Danza. Allora, per una volta saremo noi a chiedervi di utilizzare i telefonini, ma non per fare foto, mi raccomando. Vi chiediamo di accendere la luce del vostro cellulare così, mamma mia, siete ipertecnologici. Guarda che meraviglia. Guarda, guarda. Ecco, indirizzatela naturalmente verso il palco. Adesso, tra poco, faremo una bella ola. Va bene? Attenzione al mio tre. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di amore per la danza. Ecco, Roberto. Quest'arte bellissima e preziosa che dobbiamo difendere. Allora, Roberto, facciamo questo tentativo. Allora, coraggio. Cominciamo da qui con la ola. Uno, due, tre, via! Meraviglioso, meraviglioso. Adesso di qua, là. Vai, di nuovo. Di là, così. Che meraviglia. Sembra proprio un'onda gigantesca, guarda. Allora, sì, che meraviglia. Questo bellissimo momento di dichiarazione d'amore per la danza la potrete trovare e rivedere tutto a disposizione sui social. Va bene? Adesso, Roberto, facciamo un piccolo intervallo e poi riprendiamo con la magia. Grazie, Roberto Bolle. Grazie a tutti voi. Grazie.